C'è un fatto nuovo che apre scenari diversi sulla scomparsa di Victorin Bucci, la donna di 42 anni di Larino, che si sarebbe allontanata da casa del compagno di Termoli nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, dopo una lite furibonda con lui. Intorno alle 10.30 del 18 dicembre, Victorin è stata vista viva a Termoli da due persone. Si è recata in un ufficio aperto al pubblico per chiedere informazioni su un documento. Questa è stata l'unica segnalazione di cui gli inquirenti sono al corrente fin dall'inizio, come spiegato dal procuratore di Larino Isabella Ginefra, che ha deciso di svelare solo ora il particolare, vista soprattutto la piega presa dalla maggior parte delle trasmissioni televisive nazionali orientate tutte verso un possibile omicidio. Non escludiamo nessuna pista, continua a ribadire il procuratore, a questo punto anche quella dell'allontanamento volontario. Ma dove è finita allora Vicky? Si sta nascondendo? Da chi? Le è successo qualcosa? La sua auto poi è sparita con lei. Interrogativi ai quali gli inquirenti provano a dare risposte ed è forse per questo che a oltre un mese dalla scomparsa di Victorin si torna a cercare in mare. Questa volta il nucleo sommozzatori dei carabinieri è arrivato da Pescara, che si occupa delle ricerche, sotto la supervisione del colonnello Raffaele Iacuzio, comandante della compagnia di Larino. La zona delle immersioni è quella alle spalle del trabucco, all'interno del bacino del porto turistico, che non era stata controllata. Insomma, uno scrupolo investigativo ha spinto gli inquirenti a tornare nel posto in cui è stato ritrovato il suo cellulare, notato da una passante intorno alle 10 del mattino del 18 dicembre. Quattro sommozzatori a turno si immergono nelle torbide acque del porto turistico alla ricerca della Panda Rossa. L'area è profonda in alcuni punti quasi 5 metri, in altri 2,5. La visibilità è praticamente ridotta allo zero, tanto che i sub procedono a tentoni, tenendo con una mano una cima legata a un peso. Con l'altra mano si cerca in acqua a diverse profondità, con l'obiettivo di toccare qualcosa che possa anche rimanere incagliato alla cima. I sub resteranno almeno oggi e domani. Finita la zona del porto turistico, passeranno a quella all'interno del porto, dove già le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non avevano dato esito.